salve a tutti ragazzi e bentornati su mio canale io sono dragon rex e siamo qua dopo tanti mesi un bel po di mesi in cui ci siamo bloccati nel continuare con il continuare di david within anche con questo titolo come in resident evil ovviamente sarò affiancato dal mio caro amico deus panzer 3 tv che anche oggi è qui con noi ciao panzer e bentornato sul canale dopo un bel po di tempo ripartiamo con david within grazie mille a lei dottore sono qui di nuovo in compagni in vostra compagnia per continuare david dopo una lunga pausa come aveva appena accennato il caro dragon rex ci dovete scusare per questa lunga pausa ma purtroppo per impegni un po sui un po e miei quindi abbiamo dovuto un po fermare il tutto però siamo qui di nuovo insieme per continuare con per con voi e per voi questa bella 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 storia e quindi come continuiamo con la presenza del mitico dottore e lascio la parola a lui la ringrazio cavo panzer allora ragazzi ovviamente noi che stiamo tornando a registrare dopo credo sei mesi perché l'ultimo del giugno del 2022 siamo a dicembre sono praticamente quasi sei mesi giusti 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 caro panzer siamo al capitolo 6 che andiamo a caricare aggiungo anche dottore una piccola cosa che oggi che il 15 dicembre sono la bellezza di cinque anni che ho la mia ps4 ah ecco complimenti complimenti sono cinque anni che vive con moi bene è il momento di prendere la ps5 allora dottore se hai un po di un po di grana me la manda poi ci penso io non tasti questo non tasti questo tasto eh allora ragazzi ovviamente i video di davy within li trovate li troverete anche sul canale del cavo panzer eh la serie è già uscita sul canale quindi eh mentre noi registriamo dovrebbero essere usciti più o meno anzi mentre noi registriamo oggi dovrebbero essere usciti già eh sei sette episodi eh più o meno eh e noi siamo tornando tornati qui per continuare noi non possiamo potenziare niente no eh non mi ricordo tu devo andare a vedere eh sì andiamo a vedere sì ci abbiamo un po di roba è qualcosa ma le consiglierei di che cosa volendo possiamo potenziare giusto così abilità da dividiamo un po abita la durata massima dello scatto che non sarebbe male però voglio ci vogliono facciamo la cosa accumuliamo dottor accumuliamo e poi magari più in là allora torniamo di qua io ovviamente mi affido a lei ovviamente con lui che le farà morire ecco appunto ok allora io adesso controlli un attimo controlli un attimo un attimo le armi prima di procedere perché lei sa come lei ok allora allora eccolo qua il tasto abbiamo la pistola caricatore sette vi serve a dieci massimo venti abbiamo anche la cura eh che lei consiglio di 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 usarla perché eh dice eh dottore con un colpo il già morente vabbè non è che sia migliorato di molto però va bene eh vabbè dottore si deve potenziare sì sì allora non ci abbiamo granché qua non ci abbiamo pompazza niente eh cecchinazzo qualcosa ce l'abbiamo bombe ce l'abbiamo insomma non è che ci abbiamo granché ok allora dottore sì come si metteva l'arma qui con questo no deve premere i tasti direzionali dottore sì no vabbè ci mettiamo la pistoletta qua credo che ci sia qualcuno già fuori giusto sì bene vabbè c'è il mitico sebastian dottore ok io non ricordo oddio dove dovevo salire sull'ascensore tutto uno spari che ogni colpe è fondamentale tutto fermi un attimo fermata si deve stere deve usare la fiammifero così è lì e lo sblocchiamo la quattro niente no no ok può salire tutto diamo sebastian insieme al lui che non mi ricordo come si chiama joseph joseph giusto allora noi dobbiamo fare anche dlc di questo titolo tra l'altro ok bene già mi vedo vedo tante belle cose allora qua cosa ci abbiamo una cura beh questo almeno ci può essere utile qua c'è qualcos'altro si cos'è ho un po di punti qua di di pastella qua allora vadiamo avanti si la vedo brutta qui eh allora tutto si attendo perché qui deve utilizzare il cecchinazzo eh ah come la precedentemente quelli la da sparare si perché deve deve avere una buona mira stesse giocando con noi ok quello sta muovendo eh sì perché c'ha le convulsioni non muovare manca poco ormai si se lui dice che manca poco mancherà poco allora ha detto il cecchinaccio questo qua me lo metto già ovviamente si trova pure le munizioni più avanti cerchi di non sprecarle perché ogni colpa è fondamentale dottor solo una cosa per abbassarsi come va qui non mi ricordo dovrebbe essere l1 perché giocando con la ps3 è l2 no è r1 ok no scusate ragazzi però io ho dimenticato tutto vabbè la censura tutto un genio lui eh 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 Gianni e Pinot allora dottor appena riparte la la giocabile la moment ok vadi sulla sinistra qui dove c'è il cecchinazzo le munizioni e si metta in un punto favorevole alla sua mira ok ma va bene di qua si vabbè dottor devi fare veloce se no muore se no è game over eh ok eh miri subito dottor miri subito ok veloce dottor eh niente deve fare veloce dottor va bene ho capito ho capito quello che c'è da fare così ti impari ok stanno arrivando eh dottor vedo vedo coprimi andiamo si coprimi aspetta prendi la bomba ce la fa ad arrivare la che dice si qualcuno è andato eh attento dottor attento che tanto attento che sta andando uno dal dal gioco eh l'ho visto quello che è morto dottor è morto qua sono gli altri dottor però non 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 si allontani ecco perché game over eh lo so ma voglio lanciargli l'altra bomba l'ho lanciata la bomba si eh qualcuno però ne ha fatta pure eh vabbè se ne sono rontananti gli altri ok va bene va bene va bene venite da qua belle venite attento ok vabbè volevo prendere la roba però è importante essere passati è importante essere passati alla fine ok anche qua la vedo anche triste giost sei tutto intero allora ricarichi lui io si tieni premuto dai ok allora dottor vadi vadi poco più avanti dottor eh ma volevo car- eh ok l'ho caricato ok allora qui si può rinfucillare di di munizioni perché tra poco ci sarà una boss fight bene eh da dove passiamo qua eh da lì dottor deve 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 premere eh non mi fa premere ah ok comunque ok quindi qua troviamo un po' di roba si deve guardare bene in ogni angolo non del pianeta ma del luogo allora come si faceva il pugno? eh sulla ps3 quadrat triangolo anche qua ok andiamo giusto a vedere se c'era qualche cosa qua cosina c'è ok allora ehm sono libero di esplorare qua vi faccio capire si si ok tanto non ci sono nemici qui non si preoccupa ok perfetto ok un cecchinaccio ah il pom pazza meno male va allora vediamo un po' un attimo allora eh prima delle prima delle munizioni carichi tutto non si preoccupi eh se i cavi con il frattempo che magari non si sa mai ok ok eh ovviamente ovviamente eh esplori tutto e ovviamente dottor una volta sembra abbandonato non fermiamoci peccato che ho perso la cosa lì questo l'avevo recuperato un po' stavo dicendo dottor dottor una volta no mi scusi lei una volta finita finita la boss fight eh finirà la il capitolo ah ok eh boss fight si attende al baule ah questo è il baule maledetto eh speriamo di farlo allora come caerà si oh e dai ok beh 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 un po' di roba eh per una volta funziona tutto complimenti si sta facendo progresso sto facendo ma quanto è disgraziata lei eh lei è disgraziata no 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 fermi tutto fermi torni indietro torni indietro torni indietro eh eh si qua c'è l'altra bomba ci sono altre casse da rombare si si stavo vedendo se stavano alte dall'altra parte ok qua un po' di un po' pochino eh mi aspettavo un po' di più ok ah questo è almeno 300 distruggiamo tutto come se non ci fossero domani questo non mi ha dato nu cazzo ok questo qualcosa ce l'ha dato accogliamo così possiamo tranquillamente senta quindi qua non c'è il rischio che incontro nessuno giusto? no 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 anche perché non ci sarebbe posto per una boss fight ok qua ci abbiamo questi qua che sono sempre utili rompa rompa dottor rompa rompa si si rompo tutto ma quella bottiglia non la potevo recuperare no c'è anche un c'è anche un collezionabile tutto per la storia eh sul tavolo ah eccolo qua per la storia si eh già sentiamo era un uomo rigido orgoglioso ma anche intelligente ed era anche devoto credeva in dio appoggiava la chiesa a prescindere dalle notizie sui giornali respingeva ogni accusa come se fossero infallibili la chiesa accoglie i derelitti i parassiti gli esaltati non sembra più difficile e promette salvazione e vita eterna ma io sono in grado di cancellarle in un battito di ciglia più che altro è saltati soprattutto comunque vabbè ah beh questo allora aspetta ho fatto casse si dottor se si abbassa se si abbassa troverà la madonnina la statuina con la chiave da poi utilizzare dalla dalla da tatiana dove la madonnina che non la vedo eh è oltre oltre il buco non capisce non capisca male dottor il buco dottor dottor fermi indietro sulla destra no dottor sulla destra lì di fronte a lei ah ok 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 qua questo buco ma specifici lei dice buco eh dottor ma lei deve subito intuire mi scusi eh vabbè subito intuire ma ok prendiamo la chiave così possiamo recuperare un po' qualche oggetto di là è così vediamo se a buce ecco a proposito di buchi no no vabbè volevo dire non so se si può dire quella parola ma vabbè dottor posso andare avanti si da qua si 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 ispezioni ispezioni ok ispezioniamo tutto prendiamo tutto che ci possa vivere questo non si può rompere sotto tavola no soltanto le bottigliette vabbè qua ci sono oh pompazza vede pompazza carichiamo che è sempre utile lì davanti dottor vede se c'è altro perché poi ovviamente non può tornare più indietro eh vabbè ma credo che noi volendo potremmo c'è un un save qua no il salvataggio è arrivato nel momento in cui ha varcato la la porta ok ho capito quindi dobbiamo fare per forza la boss eh si dipende se c'è tempo nella registrazione o no dipende da quanto sia lunga la boss fight dottor eh deve colpire eh non posso dire no ah no aspetta no 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 chiedo venia eh no non è adesso non è adesso la boss fight mi ricorrego no 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 chiedo venia chiedo venia stia tranquillo dottor noi recuperiamo questa questi frullati qua no no recuperi tutto non si preoccupi cubi ok proiettili si ragazzi noi stiamo recuperando perchè come in ogni gioco le risorse sono importanti la vedo qualcosa ci possiamo andare di là ovvio questo lo vedo bello grosso eh questo frullattino eh mille infatti si vedeva da lontano un miglio che era abbastanza capiente eh allora siamo andati qua da questa parte si esce ok allora quindi lei mi dice che non c'è più boss fight praticamente mmm si c'è la boss fight ma poco più avanti non è varcando il la il cancello chiedo chiedo venia a tutti i nostri telespettatori eh volevo dire tutti i nostri cari visitatori di youtuber di youtube allora io volevo sapere un attimo se potevo migliorare qualcosa visto che abbiamo un po' di attrezzi si tanto tanto se varca la la porta ce l'ha il save il save point no volevo fare qua perchè qua mi sa che non c'ho niente di darlo giusto c'ho uno solo di quello allora le consiglio allora se per la boss fight le consiglio i tardi tardi esplosivi che sarebbero i primi oh e basta ok i primi giusto questi si esplosivo ok quindi magari ne facciamo due sono due giusto vabbè tanto poi uno l'ha fatto uno l'ha fatto vabbè carichiamo eh vabbè ma lo deve comunque caricare eh infatti quello che stavo dicendo lo do sta il coso qua qua quadrato ok ha caricato ha caricato tutto si questo è quello esplosivo giusto si possiamo fare un altro non si sa mai eh certo più ne fa meglio ovviamente tutto deve comunque aumentare la capienza se no eh si perché uno solo mi fa mettere in canna no 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 come riserva intendo vabbè riserva ce ne sono due non so se mi fa fare altre non mi sa di no 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 c'è la possibilità ma c'è la possibilità comunque di aumentare la capienza dei danni quello del caricatore più che altro esatto della riserva no della riserva il caricatore è sempre uno a dardo eh si della riserva quello dobbiamo fare poi a ciecamente ne facciamo uno che dice non serve per la boss fight non serve ok qua due ne abbiamo due perché non ce l'ha caricato questo no questo ok caricato vabbè abbiamo fatto ok dove andiamo adesso eh dritto per dritto no dottor sono alle spalle no sto controllando la velocità credo che abbiamo fatto tutto abbiamo distrutto tutte le casse ok quindi poi c'è il punto save sicuro sì 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 dottor no 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 ok così fermiamo questo episodio che è andato così e poi vi prenderemo ancora allora ok passiamo di qua ok siamo arrivati no lui sta muovendo malamente non vedo ancora spuntare siamo più che altro in che anno questa architettura sembra medievale sì ma c'è l'elettricità gli ascensori questo posto non è reale sembra un mix di ricordi ok sebastian si è andato vicino ah beh lei è esperto in queste cose dottor vedi avanti dottor vedi avanti cosa intende spazio scusi pure lei punto save ancora non si veda no ma si lo sentirà poco tra poco io spero che lei abbia ragione sì non si preoccupa ecco addio addio punto save ok ce ne sono un bel po eh non si preoccupi no chi si preoccupa lui lo vedo male è stato così vero dopo l'incidente io non ho mai pensato di uccidermi no certo che no ti sei solo stordito con l'alcol nessuno è perfetto ma non ha mai ha influito sul mio lavoro comunque hai letto il rapporto sai che non ho detto niente per non farti perdere il lavoro sebastian che altro c'è non abbiamo tempo mi serve il mio partner conto su di te oh punto save sento la musica glielo detto sento la musica do sta la musica do sta eh esplori visto che le piace esplorare esplori si si sono simpoli qua cosa c'è fiammiferi mi vabbè se siamo già a full credo di stare bene da qua possiamo andare se attendo tutto in che senso no no se va se va sulla sinistra perde il punto save no non dire andare per forza da qua giusto esatto eh da qua perché la dove ci sta il simbolo del si sento anche la musica quindi vadi vadi andiamo va così salviamo anzi prima vediamo un po' la chiave cosa ci regala ah se vuole fare lei devo fare io può fare anche lei vediamo aspetta qua non c'è niente immagino no no peccato allora andiamo punto save andiamo a fare ok è ritornato dalle foto vai avanti dottor allora allora andiamo a fare la chiave così poi salviamo e finiamo l'episodio mi dica lei quale vuole eh dottor no chiedo scusa torni indietro torni indietro torni indietro ancora ora devo avere la schermata buona se no non riesco a capire bene mi scusi eh no vado avanti vado ancora avanti leggermente ehm ehm la vede eh allora si diciamo la destra eh dottor spè ehm ehm il penultimo il primo la prima serie il penultimo eh il penultimo da che parte da 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 sinistra verso destra quindi la mia sinistra cioè la sinistra di sebastian qui si ma il penultimo non quel non il secondo ma l'altro la prima fila dottor la prima fila questo qua la prima no sopra 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 dottor sopra questo di sopra no no questo no no questo no 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 sono all'ultima tra l'ultima fila e la penultima fila della partenza no deve fare la prima no deve fare la prima fila ehm andando verso destra la prima fila no quella centrale ma quella di su giusto? esatto quindi ma andando verso fair 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 ok il penultimo bravo ok quindi questo qua aspetta vediamo se lo riusciamo questo qua giusto? quello quello vediamo cosa troviamo dardi congelanti ottimo ma siamo pure pieni eh vabbè però però li teniamo qua mi sa che ce ne erano qualche uno già no no abbiamo utilizzato tutti mi sa abbiamo utilizzato tutto di quelli che erano già aperti vabbè sappiamo sappiamo che ce ne abbiamo i dardi quello è l'importante allora usciamo di qua ok e andiamo a salvare oi che la signorina è sempre qua c'è niente sulla bacheca ah ci sta il scomparso chi è il tizio? il pastore salvador grassiano padre grassiano si segnala per la scomparsa di padre salvador grassiano ma per caso quello che avevano decapitato? si eh infatti padre grassiano è scomparso insieme ad altri membri della parrocchia di cedar hill o cedar hill la chiesa è stata chiusa dopo la loro spavizione ok ovviamente non è silent hill qua c'è qualche giornale si vale vale vediamo chiesa sotto indagine prete sotto indagine avrebbe violato le regole della chiesa ecco perché è stato decapitato padre salvador grassiano nega ogni accusa di appropriazione indebita complimenti è incolso un'indagine su un mandato del vescovo per scoprire com'è stato preso com'è stato speso il denavo delle donazioni beh quello che succede nella realtà insomma succede sempre ma sempre così non è che allora andiamo a salvare andiamo a salvare vai vai e per fortuna è un gioco appunto allora possiamo salvare salvare da sopra dai facciamo da sopra sovrascriversi accettiamo così tanto quello ok ok allora ragazzi ovviamente è stato un episodio così siamo tornati su David Whiting dopo tanti mesi circa cinque mesi sei mesi io ringrazio il caro amico Deus Panzer 3TV per avermi aiutato anche oggi con questo episodio con il nostro Sebastian grazie a lei comunque per la sua disponibilità e anche nel proseguire la storia del gioco io sempre come sempre ringrazio lei anche per la cordialità bene ma lei è un grande comunque la ringrazio è stato anche qui oggi in questa registrazione ragazzi se vi è piaciuto l'episodio mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarlo andate a iscrivervi anche sul canale Deus Panzer 3TV perché gli episodi come ho già detto usciranno anche da lui seguitemi sulla mia pagina Instagram sul canale Twitch e la pagina Facebook troverete il link in descrizione e noi ragazzi con il cavo Panzer vi salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti